Dal 2 settembre al 2 ottobre, quindi nel primo mese, sono stati fatti circa 5.300 prestazioni dalle 356 farmacie aderenti ad oggi, delle quali 7 comunali e 349 private. Fabrizio Zenobi, presidente Federfarma Pescara, rivela le cifre abruzzesi del progetto nazionale Farmacia dei Servizi, promosso dal Ministero della Salute ed introdotto nella Regione Abruzzo con accordo siglato insieme a Federfarma, quale associazione sindacale che rappresenta le farmacie convenzionate. Tale accordo è stato sottoscritto anche dall'associazione che rappresenta le farmacie comunali. I servizi offerti sono il monitoraggio terapia BPCO, alter, alter cardiaco, elettrocardiogramma, lo screening del tumore del colon retto e la vaccinazione anti-Covid. I servizi sono tutti gratuiti fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dal Governo. Per usufruirne è necessaria la ricetta del medico di base. Allora, per quanto riguarda la telemedicina, quindi elettrocardiogrammi e oltre, sicuramente sì. Basta una ricetta bianca o una ricetta rossa del Servizio Sanitario Nazionale, non le dematerializzate e, ripeto, fino a completamento del budget sono assolutamente gratuiti. Per quanto riguarda la rendicontazione, la ricognizione dell'aderenza sulla BPCO, il farmacista corollerà a quei soggetti che vengono in farmacia e hanno una prescrizione dei farmaci in avanti la patologia. Per le alte prestazioni, per esempio lo screening del tumore del colon retto, sono le ALS che inviano a domicilio del paziente le provette che poi vengono ritirate in farmacia. Infine dal 10 ottobre partirà anche la campagna antinfluenzale. I vaccini verranno somministrati nelle farmacie, nei centri di vaccinazione e dai medici di base.